La coincidenza della prima iniziativa ci inorgoglì perché era il primo anno dell'amministrazione Costantini e con il mio socio Vincenzo eravamo appena diventati concessionari del Venere della storica struttura che oggi ci ospita. Quindi tornare a ospitare questa gara per noi è un gran piacere e d'altronde lo sport come non assecondarlo, sono contento sia da amministratore che da balneatore. Noi daremo il nostro supporto per quanto riguarda la sicurezza in mare, quindi emaneremo apposito ordinanza per la manifestazione come facciamo per tutte quelle che avvengono ormai quasi quotidianamente nella stagione estiva e daremo anche supporto con le motovedetta per eventuali necessità. Ne approfitto per fare delle raccomandazioni che comunque sono opportune in questo periodo visto che stiamo avendo diversi decessi per malori e quindi ovviamente in questo caso saranno persone controllate però essendo un'attività aperta a tutti mi raccomando di affrontare questa manifestazione soltanto se in buono stato di salute. Ci aspettiamo un calo ovviamente perché c'è ancora un po' di resistenza a ritrovare con la socialità, a nuotare insieme, le piscine sono state chiuse quindi c'è un po' di difficoltà sicuramente. Ci aspettiamo circa una sessantina di atleti provenienti un po' da tutto il centro Italia che si sfideranno in un circuito a Boe di 2,5 km la mattina del 17 luglio qui a Giulianovo. Stiamo raccogliendo le iscrizioni, questa gara fa parte del circuito atriatico Acquilibere che è un insieme di gare, un contenitore che abbiamo messo insieme con alcuni amici e partono da San Benedetto e arrivano fino a Termoli. Siamo alla terza tappa, quindi già si è svolta la gara di San Benedetto e quella di Pineto e noi saremo la terza tappa, dopodiché si andrà verso sud.